Dovrà indossare il braccialetto elettronico, non potrà comunicare con la compagna, dovrà tenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla donna e dai luoghi da essa frequentati. E' la misura decisa dal GIP di Trieste nei confronti di un 44enne responsabile di una serie di aggressioni nei confronti della compagna, l'ultima delle quali avvenuta nel corso della serata di San Valentino. La coppia l'aveva trascorsa a casa della donna assieme ad amici. Ad un certo punto fra i due era scoppiata una lite causa alla gelosia dell'uomo il quale congedati gli ospiti aveva perso la calma ed aggredito la donna afferrandola per il collo e spingendola contro un divano per poi premerle il costato con un ginocchio colpendola quindi con violenti pugni. La donna era riuscita a divincolarsi e fuggita all'interno della stanza d'avagno aveva chiamato i soccorsi mentre l'uomo era riuscito a sua volta di leguarsi. Arrivata all'ospedale di Cattinara alla donna erano state riscontrate fratture costali e un trauma cranico guaribili con una prognosi di 41 giorni ed è stato proprio il personale medico dell'ospedale ad allertare la polizia di stato che ha in seguito accertato come quello fosse l'ennesimo episodio riconducibile ad un'incontrollabile gelosia. Nei cinque anni della relazione numerosi sono stati gli episodi di violenza che hanno visto la donna vittima del comportamento dell'uomo. I fatti descritti sono confluiti in un fascicolo di indagine già aperto per il quale il commissariato di pubblica sicurezza di San Sabba era stato delegato ad acquisire gli elementi utili all'indagine che hanno portato alla richiesta della misura cautelare da parte del PM titolare del fascicolo.